immediatamente e portare i suoi fatti. I suoi fatti sono quelli di un paese che 5 anni fa era in eccezione sull'orlo, se non già finito nel precipizio, è un paese che ha recuperato quasi 5 milioni di posti di lavoro e domani chiede altri 4 anni per finire quello che ha iniziato. Che cosa deve fare? Fai tu un nome. Chi vuoi vedere allora? Non ne conosco, non ne conosco uno di destra, non ne conosco uno di destra, non ne conosco uno di destra, non ne conosco uno di destra. Lo so, la Meloni è giovane, la Meloni è giovane. E' sempre della sua città che guarda. Va bene, va bene, è stato anche ministro, ha avuto responsabilità di governo. Allora ci dicono che abbiamo una donna in attesa, facciamola parlare. Grazie, buona giornata da te e a Lucca tutta in terra. Pronto? Pronto? Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Di Aescu. Sono Cecilia e chiamo la storia da Torino. Buongiorno a farvi in italiana. Al primo faccia a faccia abbiamo trovato, l'America ha ritrovato uno sfidante molto deciso, guardava sempre la telecamera direttamente, come lo spettatore negli occhi sostanzialmente. era molto determinato, piuttosto aggressivo, sempre all'attacco, ha detto delle cose forti, che gli americani capiscono bene, il prezzo del carburante è raddoppiato, il prezzo dell'energia, il prezzo del cibo è andato su. E ha cercato di inchiodare Barack Obama al suo bilancio non buono perché l'economia americana non si è ripresa come si sperava. Poi ha raccontato Romney dei 12 milioni di posti di lavoro, pensate 12 milioni di posti di lavoro che vorrebbe fare e lì il discorso si è fatto più difficile perché quando Obama giocava di rimessa e mi chiedeva ma tu che cosa vuoi fare? Romney doveva precisare, smussare, cambiare, insomma questo programma repubblicano è difficile pensare che sia un programma realistico, per esempio su Italia la sanità che propone rispetto alla riforma di Barack Obama. Barack Obama piuttosto sulla difensiva, che si presentava come un buon padre di famiglia alle prese con una delle crisi più difficili che l'America abbia dovuto affrontare, che non ha sfruttato le gaffe, gli errori come quello non parlo al 47% di Obama fatto da Romney in campagna elettorale, non ha fatto battute di questo genere, molto attento a rispettare l'avversario solo a far rilevare le contraddizioni del suo programma e a dire agli americani è dura ma noi siamo qui e vi garantiremo nei prossimi 4 anni di uscirne fuori con pazienza e uno sforzo solidale. che dice il prezzo del carburante raddoppiato, quello dell'energia e del cibo va su e che costringe il presidente sulla difensiva, ha vinto lui il primo confronto Romney? Sì, non c'è dubbio. Il primo dibattito è stato vinto da Mitt Romney e è stato perso da Barack Obama. Per 90 minuti Romney è andato all'attacco con determinazione, motivazione, in maniera regressiva, rovesciando accuse e numeri sul presidente e che in realtà è fatto remissivo, molto spesso non ha risposto alle accuse che sono state sollevate. Ai numeri che Romney ha avanzato, cioè Romney gli ha detto hai tolto con la riforma della sanità 760 milioni di dollari al Medicare, all'assistenza degli anziani e tu rimproveri alle compagnie energetiche, sbagli fiscali per 2,8 milioni di dollari all'anno, ma in realtà mi garantisci 90 milioni ai tuoi amici dell'industria verde rinnovabile. Cioè Romney è ancora, gli ha detto tu pensi di tagliare, di insolvere il deficit, aumentando le tasse come fanno in Spagna ma per noi non funziona. In continuazione lo ha incalzato e Obama non ha mai risposto a questi affonti. Invece di rispondere a Romney, Obama parlava con il moderatore e rispondeva sicuramente i concetti positivi della sua compagna in modo da te lo fisco economico, rispondendo la classe media e gli aiuti ai giovani per le borse di studio, ma insomma questi messaggi positivi in realtà si tritevano con l'aggressività dello sfidante. E da lì la sorpresa anche in sala stampa, cioè qui sono stato circondato dagli stagionisti americani, dicevano Obama got trashed, cioè è stato travolto. In particolare molti per contestano delle reazioni a scaldo a Obama di non aver usato le munizioni che la sua compagna gli aveva dato. Ad esempio lui non ha mai parlato di brain capital, che è invece il principale strumento di accusa della campagna democratica nei confronti di Romney per schiacciarlo sul capitalismo selvaggio. Non ne ha mai parlato. Come non ha mai parlato della capta di Obama sul 47%, quella recente del video dove parlava del 47% dei americani vittime. Insomma è stato un Obama insolito sulla difensiva, era quasi irriconoscibile e da lì non c'è da sorprendersi se nei primi sondaggi fatti dalla CNN il 67% degli americani dice che ha vinto Romney e il 33% Obama. Insomma Romney doveva vincere il dibattito per riaprire la campagna elettorale se c'è riuscito. Grazie, allora il cartello noi riprendiamo con l'edicola sul digitale terrestre e il satellite. Sono le 6.59 di giovedì 4 ottobre, a tutti un bel risvegliato e un bel ritrovato e buongiorno Regione. Buongiorno a Dettore e a Lorenzo. E buongiorno anche a te Stefania, dal San Raffaele alla Regione Lazio oggi ci occuperemo ancora del rapporto tra affari e politica e poi come sempre stamattina tanta tantissima cronaca, andiamo subito a guardare i nostri titoli. Ecco il primo, San Raffaele 10 anni a Dacò, 10 anni di carcere, una condizionale di 5 milioni di euro e la condanna è infitta al facendiere Pierangelo Dacò per il cracca nell'ospedale San Raffaele di Milano pena rattoppiata rispetto alle richieste dell'accusa, oggi poi a Roma il primo interrogatorio in cancere per Fionito. Ilva, esclusione e polemiche, un giovane operaio è rimasto ulzionato nello scoppio di scorie incandescente che è venuto in un'area dell'ilva sottoposta a sequestro, intanto mentre il Senato approva il piano di politica ancora polemiche sui dati relativi ai casi di tumore nel Tarantino. Un altro titolo, Lignano fermato, Reiver Rico, nuova svolta nell'inchiesta sul delitto dei due anziani coniugi a Lignano, San Viadoro, a Cuba è stato fermato dalla polizia locale Reiver Laborde Rico, il fratello della giovane Elisandra che ha confessato il duplice omicidio. E infine Loreto attende il Papa, Papa Benedetto XVI, oggi atteso al santuario di Loreto nelle Marchi, una visita che cade nel cinquantesimo anniversario del pellegrinaggio di Giovanni XXIII che precedente l'apertura del concilio Vaticano II. Ma adesso come sempre le informazioni di servizio, in particolare le previsioni del tempo e allora ci colleghiamo immediatamente con il colonnello Giancarlo Bolelli per sapere che tempo farà oggi. Innanzitutto buongiorno colonnello. Buongiorno Ettore, benvenuti nella nostra rubrica meteo. L'aspetto più importante è che le temperature per il fine settimana sono previste in salita. Osserviamo il nostro termometro, colonina di mercurio in aumento e le temperature al sud sfioreranno i 28-29 gradi. Vediamo intanto che cosa accade sul Mediterraneo. Notate questa perturbazione, si chiama Marianne, sembra minacciosa, sfiorerà un po' con l'arco alpino e le regioni settentrionali. Libere invece Danubi sia le regioni centrali sia quelle meridionali. Ma osserviamo la previsione per oggi. In arrivo quest'area durosa sull'arco alpino richierà qualche pioggia, soprattutto sui rivieri Lombardi. Nel corso del pomeriggio aumenterà poi la luminosità. Osservate su tutta la pianura padana qualche pioggia, qualche perigine sull'arco Ligure, dove soffierà peraltro sul mar Ligure di Ribezzo e anche sul Piemonte. A densamenti più consistenti verso la Venezia e Puglia, il Friuli, con possibilità di qualche leggera pioggia. Relativamente alle regioni centrali, delle neppe e delle pustie al mattino l'abbiamo indicato, ma il sole sarà primo attore della giornata. Il maestrale si attenuerà, sarà poco mosso il Tirreno, un po' di sciroppo lungo le coste delle Marche, dell'Apruzzo e delle Molise. Al sud splenderà il sole, vedremo tra poco le temperature, cielo sereno, qualche addensamento ancora verso la mezzia terne, Cosenza, ma ancora il maestrale... qui processo a Sanitopoli, sono stati rinviati a giudizio l'ex assessore Ferrero e il suo braccio destro accusati di abuso e turbativa d'asta, con loro anche un sindaco e un commissario dell'ASDA. C'è stato un altro arresto shock ieri a Chiavari. L'amministratore delegato di Tributi Italia, quella che doveva essere l'alternativa, in cui Italia riscuoteva l'ICI per i comuni, ma poi si intascava i soldi e nello stesso tempo licenziava ad uno ad uno i mille dipendenti. Sono stati altri quattro arresti, ma sentiamo i dettagli per Andrea Marotta. Sì, intanto la novità, buongiorno, è che domani pomeriggio è previsto l'interrogatorio di garanzia per Cusette Sassese, l'amministratore di Tributi Italia, che è stato arrestato martedì su disposizione della procura di Chiavari, un'indagine che riguarda in tutto nove persone. Per la gravità dei reati ipotizzati che sono speculati in banca rossa per distrazione, la competenza dell'inchiesta potrebbe poi passare a Roma. Sono circa 400, infatti, in tutta Italia, i comuni in cui la società fondata da Saggetti riscuoteva Tributi, 14 le inchieste aperte da altre tante procure su input delle amministrazioni che dal 2008 non si vedevano più versare il denaro brutto. Una parabola verdiginosa per l'imprenditore di Reggio, è un'assalto capace di creare un impero con 1200 dipendenti e farlo naufragare trottando i soldi su altre società e sui punti esteri. La maggior parte dei lavoratori hanno perso il proprio posto, 400 sono in cazza integrazione fino al dicembre, nella sede di Chiavari ne sono rimasti in 15. A Saggetti gli inquirenti hanno sequestrato beni per 9 milioni di euro, in tutto ritengono ne abbia sottratto, distratto almeno 20, ma sospettano un buco complessivo da circa 500. Da Genova è tutto.